Vittoria, meraviglioso! Da poco ho guardato tutti i tuoi punti magici che hai segnato. Wow, che ragazza! Grazie mille. È un vero onore parlare con te. Sono molto, molto emozionata. E in realtà è da un po' che penso a questo momento. E sono solo molto, molto felice di essere qui oggi a parlare con te. Quindi è un mio onore. Vittoria, in questo momento questo movimento di Conscious Planet è stato accolto molto bene. Molti capi di Stato si stanno unendo tutti insieme. Con tutte le agenzie dell'ONU abbiamo stretto una partnership. Sta andando tutto. Ora stanno arrivando anche molti leader politici, celebrità, star del cinema, musicisti in particolare, sportivi. Quindi sta andando molto bene. Quindi dal 21 marzo in moto andrò da Londra all'India, attraverso 25 nazioni. Quindi sono 100 giorni. Dal 21 marzo per 100 giorni vogliamo che il mondo intero parli solo di suolo. La cosa semplice è che qualunque tweet tu faccia, qualunque messaggio tu faccia, invece di dire solo ti amo, di salva il suolo. Perché è l'unico modo in cui possiamo esprimere il nostro amore alle generazioni future. Davvero. Eh sì, è una delle cose... Prima che qualcuno mi contattasse ho visto molti video su questo movimento e adoro l'idea. E il modo in cui lo descrivi per le future generazioni. Sai, la mia generazione, non mi reputo ancora vecchia. Ho solo 32 anni, ma ho un figlio che ha 5 anni. E sento che dargli un'educazione su questo è veramente, ma veramente importante. La sua generazione è una di quelle che farà parte del futuro e probabilmente ne sarà influenzata molto più della nostra. Quindi questa è una mia missione, anche come genitore. Assicurarmi di dargli gli strumenti per comprendere il pianeta. Io sono cresciuta non in una fattoria, ma i miei nonni e i miei genitori avevano una casa estiva, dove ci insegnavano tutto su come capire il suolo, come coltivare le verdure, come entrare in contatto con la natura. Così sono cresciuta conoscendo e comprendendo questo. Ma nella società in cui viviamo adesso, con tutta la tecnologia e altro, ci si allontana dalle cose naturali. Così una cosa che mi piacerebbe, sai, è che mio figlio capisca e sia in contatto con questo. E ti ringrazio perché stai portando alla luce questo problema e spero che ovviamente con la tua missione e la piccola parte con la quale posso contribuire sia di educare di più le persone sulla sua importanza. Quindi la cosa più importante è che tutte le persone che contano nel mondo, lo facciamo in maniera coordinata per questi 100 giorni, vogliamo che l'intero mondo parli del suolo a partire dal 21 marzo, per 100 giorni. Questo è ciò che stiamo attivando. Non voglio chiamarlo il mio movimento perché non riguarda me. Questo riguarda la vita sul pianeta, questa è una responsabilità generazionale. Vedi, adesso ogni scienziato mondiale responsabile sta indicando che per il 2045 si produrrà il 40% in meno di cibo e la nostra popolazione sarà di 9,2 miliardi. Quello non sarà un mondo dove desideri vivere. In confronto a me, tu hai 32 anni, sei ancora una ragazzina, ok? E hai un bambino. Lo sai, tra 20 anni dove io sarò sarà un punto di domanda. Ma voi sarete su questo pianeta ed è molto, molto importante. Perché il suolo non è di nostra proprietà, è un'eredità che viene dalle generazioni precedenti. Mantenerlo vivo e passarlo alle prossime generazioni è la più importante responsabilità che abbiamo. Le persone hanno evitato il problema del suolo per un insieme di ragioni varie, non voglio entrare nella questione politica, ma in questo momento, negli ultimi due anni in cui ho lavorato a questo progetto, ho parlato con molti, molti scienziati, capi di governo, diversi leader, celebrità. Finora non ho trovato una persona che ne abbia parlato in modo negativo. Tutti loro vogliono che questo accada. Perché un aspetto importante del progetto e del movimento è che non è contro nessuno, non è contro fertilizzanti chimici, non è contro campagne petrolifere, non è contro niente. E' per mantenere il suolo vivo. Non riguarda, sai, da che paese provieni, di che razza appartieni, di che religione sei. Non importa in che cosa credi, ma in sostanza tutti proveniamo dal suolo e sicuramente torniamo al suolo in un modo o nell'altro. Sì, questo mi ricorda le domande e risposte nelle sessioni in cui parli, che se le persone non lo fanno un giorno morirai e alla fine avrai una grande sorpresa. Questo me lo ha ricordato. Se non ti dispiace, volevo farti questa domanda. Sono un atleta professionista e abbiamo questo tipo di cultura in cui molte persone dicono che quando sei un atleta devi passare attraverso il dolore. E nessun dolore, nessun guadagno è lo slogan più grande. E per tutta la mia carriera e per tutta la mia infanzia ho avuto un modo piuttosto non facile per arrivare alla mia carriera professionale. Ma si trattava sempre di combattere le avversità, di dimostrare che le persone si sbagliavano. E questo è stato il fulcro della mia motivazione per arrivare ai vertici del mio sport. E poi è svanito. Molto rapidamente, una volta arrivata lì, e ho capito che quel tipo di motivazione che veniva dalle altre persone non era più sostenibile per me. E sto trovando, sto trovando un nuovo modo di motivare la mia carriera. E mi sono resa conto sempre di più con la pratica che faccio che è tutta una questione di fiducia interiore. Cosa puoi fare e come puoi motivarti. e non dipende da nessun altro. Quindi questo è un modo interessante, un approccio completamente diverso allo sport. Vedo molti giovani a cui amo fare da mentore e quando penso a me da bambina vorrei aver avuto qualcuno che mi spiegasse un po' meglio. Quindi è un po' quello che... Quando avevi 15 anni c'ero, eh? Quando avevi 15 anni c'ero. Eh sì. C'eri ma non c'era YouTube. Era più difficile. Era più difficile trovare informazioni. E' così facilmente accessibile ora. Ed è qui che mi sento con le generazioni più giovani. Alcune delle quali stanno rispondendo molto bene. Posso anche spiegarglielo meglio. Perché è una dinamica molto interessante che non si è mai discussa nello sport. E mi chiedevo se... Mi chiedevo se tu potessi darmi qualche opinione in merito. Vedi, Vittoria, è così. Ti piace colpire la palla? Sì. Ami colpire la palla, vero? Quindi è tutto ciò che serve. Vedi, il problema è che la maggior parte degli sportivi fa così. Non è necessario. Perché il tuo sport, arte, queste arene della vita sono tali che stai facendo qualcosa che ami fare. E allo stesso tempo tutto il resto scaturisce da quello. Quindi quando fai qualcosa che ami fare, devi solo amare un po' più forte. E' tutto qui. Non dovresti amare la vittoria. Non dovresti amare il trofeo. Non dovresti amare i soldi. Dovresti semplicemente amare e colpire la palla. Se questo è molto forte in te, colpirai la palla molto bene. Se colpisci davvero bene la palla, qualcun altro manterrà il punteggio. Sì. Sì. Questo è tutto ciò che conta. Quindi, sfortunatamente, sai, le persone vogliono sempre vincere la partita. Vedi, nello yoga c'è un detto. Se hai un occhio sull'obiettivo, hai solo un occhio per trovare la tua strada. Il che è molto inefficiente. Hai bisogno di entrambi gli occhi per fare il passo successivo. Quindi ogni colpo che giochi è più importante della tua vittoria. Vincere accadrà perché hai fatto i tiri giusti, non perché vuoi vincere. Tutti vogliono vincere. Tutti hanno il desiderio di vincere. Il desiderio non ci porterà lì. Quello che ci porterà lì è solo che stiamo facendo quello che stiamo facendo davvero bene. Sai, come qui un giorno devi venire, verrai sicuramente al centro yoga, e vedrai come viene fatto tutto. Abbiamo programmi aziendali in cui arrivano i migliori CEO. Stanno tutti guardando il posto e dicono, Sadguru, come fa a funzionare in questo modo? Tutto sta accadendo come un orologio, ma nessuno gestisce nulla. Tutto sta andando bene. Com'è? Così ho detto loro, vedi, siete tutti devoti all'obiettivo. Volete ottenere qualcosa. Noi siamo solo devoti al processo. Perché se fai bene il processo, l'obiettivo arriverà. Non perché desideri l'obiettivo. Ti succederà. Ogni pazzo vuole vincere, ok? Ma vinceranno. Non accadrà per il tuo desiderio. Quindi essere devoti al processo. Colpire la palla è un processo. Ed è tutto ciò che conta. Come la colpisci? Che sia dentro o fuori qualcuno lo guarderà. Qual è il punto? Qualcuno lo guarderà. Chi è il vincitore? Qualcuno lo guarderà. Non devi guardare tutte queste cose. Non devi essere motivato in questo modo. Solo con grande gioia colpisci la palla. Il tuo corpo e la tua mente funzionano al meglio quando sei gioioso. Mi piacerebbe vedere un atleta ridere. Sai, continuo a usarlo sempre con gli atleti. Perché sono sempre così seri e sembrano, sai, sembrano morti. Qual è il punto? Stai facendo qualcosa che ti piace. E qual è lo scopo di questo? Quindi faccio sempre questo esempio. L'unico atleta che sorride sempre è Ronaldinho. Sai, quello che gioca a football. Un sorriso così grande sulla sua faccia. Non importa che tipo di partita, se sta vincendo, perdendo. Perché se stai facendo qualcosa che ami fare, lo farei al meglio. Solo se ti trovi in quel tipo di stato. Altrimenti, quale sia la tua competenza, sarai a qualche punto al di sotto di quella. Non è così che dovrebbe essere. Quale sia la tua competenza fisica, la devi superare di qualche punto. Non scendere al di sotto. Queste cose accadono a ogni atleta. Sono sicuro che l'hai sperimentato. I momenti in cui ci sei totalmente, quando giochi con grande passione per il gioco stesso, in quei momenti superi i tuoi limiti. Altri momenti in cui sei teso per voler vincere, scendi al di sotto della tua stessa competenza. Nella nostra vita, se non facciamo ciò che non possiamo fare, non c'è problema. Ma se non facciamo ciò che possiamo fare, questa è una vita disastrosa. Questo non ci dovrebbe succedere. Sì, sì, anche questo non è tanto difficile da pensare, ma adoro la semplicità di come metti le cose insieme. È come se, ok, perché non l'ho pensato? Perché non ci ho pensato prima? Ma sicuramente è così. Penso sia un fattore culturale, sai. Gli atleti devono apparire in un certo modo e non possono mostrare nessuna debolezza. E come hai detto tu, devono essere molto concentrati. E beh, la concentrazione penso sia una cosa, ma apparire arrabbiati è... Se stai ridendo, se stai ridendo, il tuo avversario potrebbe non sapere cosa fare. Esatto, ma il processo di intimidazione qualche volta avviene prima della partita e in certi momenti funziona. Quando non sei tanto consapevole che si sta giocando la partita con l'intimidazione, ma... No, no, io sono consapevole di tutte le partite mentali che le persone giocano, ma sto solo dicendo che anche questo è un gioco. Guarda, se tu sei gioioso... No, 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 intendo gli altri atleti. No, no, intendevo tra gli atleti. Beh, specialmente nel pugilato, sai. Stavo parlando con alcuni pugili come Mike Tyson e altri. Tutto riguarda l'intimidazione. Comincia dalla sera precedente dicendo una miriade di cose, di tutto. Vedi, questo è un modo per fare le cose. Un altro modo è essere gioioso, anche se magari gli altri non vogliono, ma tu vai a dargli la mano e dirgli cose carine e gioca con gioia. Vedrei che anche questo li porterà fuori strada. Ma la cosa più importante non è mettere loro fuori strada. È più importante che tu non vai mai fuori strada. O no? Sì, sì. Riguarda assolutamente come ti fa sentire. Ho notato, ovviamente, nella mia carriera e il fatto che ho intrapreso più o meno un percorso spirituale da giugno 2020. Ho notato che è quello che fai che ti fa sentire e non le altre persone. E anche quello che fanno gli altri. È come lo prendi e come ti senti, piuttosto che essere gli altri ad influenzare come ti senti. C'è sicuramente stato un processo illuminante per me. E sto davvero godendo il viaggio di disimparare. Vorrei solo menzionare che ho fatto Shambha Vikriya in ottobre. Sì, sì, a ottobre, sì. Ed è stato davvero interessante perché lo stavo facendo durante il mio torneo. E ho chiesto al nostro arbitro se poteva mettere le partite più tardi. Così poi io potevo seguire le sessioni nel mattino. E mi hanno aiutato. Così ho potuto completare le ore. Perché quando mi sono registrata non ero sicura dove sarei stata e quale sarebbe stato il mio programma. Ma ero davvero intenzionata a finirlo. Ed è stato un processo davvero interessante. Perché all'inizio, quando ho iniziato la meditazione, ho sempre pensato di non sapere come meditare. E che fosse davvero difficile. E di non sapere come fare. E poi lentamente ho cominciato semplicemente ad accettare il momento così com'era. Ed è davvero la mia medicina ogni giorno quando faccio la mia meditazione. E un giorno che non l'ho fatta ho notato la differenza di come mi sento e quanto più chiaramente penso. Ed è davvero trasformativo. Quindi voglio ringraziarti per aver condiviso quei momenti. Eh sì, è tutto tuo. Vittoria, hai 32 anni. Penso che hai bisogno di un po' di aggiornamento dentro di te. Se ci darai una settimana all'anno faremo qualcosa con te che sicuramente aumenterà tutto. Perché non sto dicendo che sei vecchio, ok? Hai 32 anni. Ti ho detto che sei una bambina ma ti sto parlando come atleta. Ti vedevo quando avevi 21, 22, 23 anni. Eri fantastica. Ma perché il corpo non è lo stesso con la che sei a 22 e quella che sei a 32? Adesso ti basi di più sulla tua esperienza e abilità piuttosto che solo sulla tua forza. Così quando questo accade, come conservarsi, come non fare neanche un movimento extra non è necessario. È qualcosa che bisogna imparare. Perché più diventi grande, conservare se stessi diventa molto importante per essere efficaci. Non vogliamo fare le stesse cose selvaggi che facevamo quando ne avevamo 22. Quindi per quel processo come un atleta sono sicuro che queste cose le sai. Ma se investi un mese all'anno sia negli Stati Uniti che in India ti sistemeremo in qualche modo. C'è abbastanza spazio, puoi venire anche con tuo figlio, farà bene anche a lui. Sì, in effetti siccome faccio meditazione tutte le mattine e mio figlio sa per piacere non disturbare la mamma. Così se lui si sveglia non mi disturba mentre sto meditando. E sta cominciando a imitarmi un po'. Quel poco che penso dell'essere genitore è che dire qualcosa a tuo figlio può essere di valore. Ma dimostrarlo come esempio credo che gli dia più beneficio. Quindi cerco di usare questo approccio con tutto. E mia madre mi ha detto un paio di volte, che sono andata al lavoro prima, che lui si siede e prova. Sai, prova a meditare. E in effetti ho delle foto di quando sto giocando una partita e lui sta guardando la mia partita seduto nella postura della meditazione. Così mi piacerebbe introdurlo un po' di più in questo perché so quanto è stato di beneficio per me. Di nuovo avrei voluto saperlo quando ero una ragazzina, ma da dove vengo non è molto conosciuto. Non se ne parla molto. Ai miei genitori non è mai stato presentato niente di simile. Probabilmente non riescono ancora a capire cosa sto davvero facendo con la meditazione, che va assolutamente bene. Ma mi piacerebbe introdurre mio figlio un po' di più. E ho visto un video dove parli di tua figlia e di come viaggiava sempre con te, ovunque andassi. E di come è cresciuta circondata da ambienti diversi e da persone diverse. E mio figlio è un po' così. Viaggia con me e passa molto tempo circondato da adulti. E anche da bambini. Uno dei punti veramente interessanti che hai menzionato è che non dobbiamo insegnare ai nostri figli come devono o non devono essere. Ma dobbiamo dar loro strumenti per far fiorire e sviluppare la loro personalità. E questo approccio è quello che sento più vicino a me. Però a volte sento di perdermi nel come a volte devo imporre certe regole e una sorta di struttura comparato a dargli libertà e lasciargli fare quello che... Vittoria, non hai ancora visto niente. Quando il bambino avrà 9, 10 anni, ti tirerà matta. Beh, penso di avere ancora tempo. Ancora 5 anni. Ha 5 anni, quindi ho tempo. Beh, ok, i bambini sono così. Non è che non li devi modellare per niente. Ma non devi modellarli a tal punto che devono rientrare nella scatola che tu hai in mente. Non devono rientrare in nessuna scatola. Meno inquadrati sono, meglio stanno. Perché l'idea è che la prossima generazione sia più libera di noi e più gioiosa di noi. Meglio di noi, non peggio di noi o neanche come noi. Non devono essere come noi. Quindi, voglio dire, non preoccuparti del bambino. Crescerà bene. Vedi, tutto quello che serve è un ambiente amorevole e gioioso. E assicurati che non assista a rabbia, gelosia, odio, sai, cose di questo tipo. Non dovrebbe mai vedere cose così. Non dovrebbe sapere cosa siano. Se crescerà così, diventerà una bellissima persona. Magari diventerà un atleta, magari non sarà un atleta. Questo non è affare nostro. Quella è una sua scelta. Sì, io non ho un piano specifico per lui. Io non ho avuto... In realtà, sono stata molto fortunata. Perché molti genitori di atleti hanno una specifica idea di come devono essere e di cosa devono fare. E sono stata fortunata che i miei genitori volevano che facessi il mio meglio e che diventassi quello che volevo. Quindi non lo do per scontato, vedendo altre situazioni. Così, quando penso a mio figlio e a quello che vuole diventare, voglio soltanto sostenerlo in qualsiasi cosa voglia essere. E dà gli strumenti per diventare quello che vuole. Nella società occidentale odierna una sfida che avrai è di proteggere il bambino dalle influenze negative, sia online che offline. Semplicemente ci sono prodotti chimici ovunque, sai com'è. Quella cosa che se ti assicuri che non si associano a quel genere di cose, per il resto lo sai, i bambini cresceranno bene. Una cosa che ho effettivamente fatto, non ho mai veramente bevuto alcolici o cose simili. Ma ho pensato che se devo parlare a mio figlio, sai, tra 10-15 anni dell'alcol e mi vede bere alcolici, Beh, quello non sarebbe un argomento convincente da parte mia. Quindi non bevo nessuna bevanda alcolica. L'ho fatto per me stessa, ma anche pensando a quello. Mi sono detto, ok, se non mi vede mai farlo, posso almeno sperare di avere un argomento convincente. Ma poi vedremo cosa succede. Sì, è molto importante come esempio, l'esempio che hai detto, perché i bambini non ascoltano quello che dici, ti osservano solo attentamente, osservano tutto quello che sei, come ti siedi, stai in piedi, ti osservano. Senza nessun intento, ma semplicemente perché sono curiosi di tutto, così guardano tutto. Ma non ascoltano mai i consigli che gli dai, così l'esempio è la cosa più importante. Assolutamente, assolutamente. Non voglio rubarti troppo tempo, so che sei molto, molto occupato e ti sono molto, molto grata per l'opportunità di conversare con te. E verrò sicuramente al centro, sai, per continuare la mia pratica. Nel mese di marzo-aprile dove sarai, Victoria? A marzo sarò negli Stati Uniti, sarò in California, in Florida e ad aprile sarò in Europa. Oh, ad aprile passerò per l'Europa. Non so dove sarai, ma sto attraversando tutte le 17-19 nazioni d'Europa. Quindi spero che ci incontreremo da qualche parte, forse possiamo farti fare una breve corsa, 10-20 chilometri, solo per farti fare un'esperienza. Oh, sarebbe fantastico, sarebbe davvero fantastico. Credimi, sei sicuro con me, perché sono arrivato a questa età senza rompermi nemmeno un osso in moto, questo significa che sono bravo, no? Ti ho sentito parlare dei tuoi giri avventurosi dove non hai nemmeno bisogno di guardare perché hai memorizzato le strade così bene. Quindi, quindi credo che tu sia un pilota molto, molto bravo, quindi mi piacerebbe unirmi, ma... Grazie, Victoria. Ti auguro il meglio per i prossimi tornei che avrai quest'anno. Andrai sicuramente bene. Ti starò guardando, andrai sicuramente bene. Grazie mille, Sadguru. L'ho apprezzato davvero. Namaskar. Namaskar. Grazie. Grazie a tutti.